E allora ci siamo. Siamo con le gabbie, partiti, cavalli della quarta corsa del poveriggio. A partire Bengala Toga, tutti gli altri che fanno una buona partenza al break iniziale partecipa soprattutto Sinibaldo che punta deciso verso la testa della competizione. Gli altri gli lasciano il ben servito tranquillamente così passa di fronte al traguardo con una certa incisività. Secondo posto per Cerigold, la terza posizione per Napoli sì che oggi si è adeguato al ritmo dei primi. In quarta tutto solo d'Arborea con la giuba gialla all'interno c'è Watermeet, poi Penango il favorito cuore nero ed in coda Bengala Toga. Prima parziale è stato brillante, adesso Sinibaldo ha ripreso un pochino in mano sul finire della prima curva di sinistra. E' ancora tuttavia il leader Cerigold che lo segue sulla sua tre quarti, la terza posizione occupata da Napoli sì che invece galoppa per corsie più interne. In quarta tutto solo d'Arborea, in quinta Watermeet, poi Penango, cuore nero e ancora Bengala Toga. Ha provato Napoli sì a mettere un po' di ritmo ma Sinibaldo ha subito reagito rispondendo prontamente, portandosi di nuovo ad avere circa un paio di lunghezze sul primo degli inseguitori che è Cerigold. Sempre in terza c'è Napoli sì, poi tutto solo d'Arborea, Penango che è accompagnato all'esterno di tutti. Bengala Toga che chiude il gruppo insieme allo stesso cuore nero che in questo momento è praticamente in penultima posizione accompagnato dal suo interprete. Siamo all'imbocco della curva di destra. Cerigold adesso ha preso l'iniziativa lasciando lì in seconda tutto solo d'Arborea. Di dentro c'è andato Napoli sì, in calo Sinibaldo allora provano a progredire tutti gli altri. Quando siamo all'ingresso addirittura d'arrivo con Cerigold sempre in leggero vantaggio. All'interno Napoli sì sotto frusta ma ha trovato comunque un ottimo varco. Cerca la rincorsa anche tutto solo d'Arborea, prova nella rimonta anche cuore nero. Gli altri che sono capeggiati da Penango sono decisamente più lontani. Quando siamo a 450 al traguardo si accende un match tra Cerigold di fuori e Napoli sì di dentro. Prova ad aggiungersi tutto solo d'Arborea, anche cuore nero che cerca la rimonta. Quando siamo a 250 metri dal traguardo però Cerigold prova a ripartire sotto la spinta proprio di Napoli sì. Cuore nero che adesso si è messo sulle gambe ma nel tratto conclusivo Cerigold al venticinquesimo tentativo. Trova la sua prima affermazione in carriera, secondo posto per Napoli sì. Per il terzo molto vicini, cuore nero e tutto solo d'Arborea. Cerigold dunque al tentativo numero 25 colleziona la vittoria numero 1 in carriera. Mario Sanna in sella per il training ai colori di Giuseppe Ligas, tre al primo posto. Per il secondo numero 8 Napoli sì. C'è dubbio solo per il terzo ma intanto Cerigold sigla ad una quota di 5,50 qui sul campo. Con Maria D'Ussanna che ottiene così un doppio in giornata anche sui 2300 metri dopo aver vinto sui 1.200. Ma questo c'entra poco. Tre al primo posto vediamo un po' per le piazze. Secondo sì Napoli sì e per il terzo dovrebbe essere tutto solo d'Arborea. Da Capanelle per la quarta è tutto. Grazie. 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 Grazie.